Grazie a tutti. Il progetto La Via del Mare. Ci spiega tutto Riccardo Anastasi. È un incontro tra altre terre, altri mari ed altre genti. È la sintesi di un viaggio ideale che tocca mete lontano. È il confronto tra tradizioni, culture e popoli geograficamente lontani, ma accomunati dalla voglia di scoprire una linea di continuità. È l'incontro del mare che entra nel fiume per parlare con la terra. La terza edizione della Via del Mare ha voluto mettere ancora una volta una di fronte l'altra l'arte e la cultura italiana con quella di altri popoli. Una iniziativa, quella a cui dà vita l'associazione culturale La Via del Mare, che per il 2011 ha sposato l'incontro con la comunità siciliana, tra cui quella accese, favorendo l'interazione tra due mondi fatti di cinema, architettura, letteratura, teatro e ancora musica, archeologia ed antropologia. A giocare il ruolo centrale della Via del Mare, quest'anno incentrata sul binomio Sicilia-Argentina, il passato e le realtà etniche, ma anche l'identità e la memoria. Poste sotto l'occhio degli animatori dell'attività artistica e culturale, quest'anno rappresentati dai componenti della delegazione argentina del Martin Fierro di Omar Moreno Palacios, ricevuti ieri a Palazzo di Città dal sindaco Nino Garozzo, che nell'occasione si è intrattenuto con il direttore artistico Silvio Benedetto e la rappresentante del Ministero degli Esteri della Repubblica Argentina, Mabel Curie. Uno spettacolo nello spettacolo, la struggente chitarra di uno dei più grandi musicisti argentini che ricorda l'esperienza dei migranti, la familiarità dell'incontro che pone una traccia di continuità tra meridione d'Italia ed Argentina, terra di colori e di suoni. Senza tralasciare la bellezza del dialogo tra culture accomunate da storie simili, fatte di rinunce, viaggi oltro oceano e ricordi lontani legati alla terra d'origine. Sono vicino, vassi comunicanti, qualcosa che io devo vedere, qualcosa che io devo sentire, qualcosa da imparare e anche qualcosa da dare. Questo stringersi le mani nella cultura e questo l'abbiamo sentito in una maniera molto bella e anche affettuosa, amichevole nella riunione con il sindaco e con tutte le persone di questo paese. Ed è a Cireale che ci sta sorprendendo per l'arte, per il barroco e per l'amicizia. Abbiamo qui avuto personaggi importanti della cultura, del turismo, della musica, dei mezzi di comunicazione argentini. Il nostro paese è legato all'Argentina, non solo per i flussi migratori, ma proprio da un sentimento comune, a Cireale, ho ricordato con loro grande sorpresa, che ha una comunità, quella di Santa Maria della Scala a Mar del Plata. Abbiamo avuto occasione di questi scambi culturali, così Maria molto informale, ascoltando canzoni struggenti della tradizione argentina che si rifà anche e soprattutto all'emigrazione italiana. Un bellissimo momento, li abbiamo anche ringraziati per aver scelto questa importante delegazione a Cireale per una tappa del loro tour qui dalle nostre parti.